Musica Rapinarono il titolare del forno Ambrosini a Fano, identificati e arrestati i due responsabili. Super bonus allarme della CNA, senza proroga a rischio centinaia di cantieri nella provincia di Pesaro e Urbino. Il governo sblocchi i crediti incagliati o sarà un disastro sociale? Marta Ruggeri dei 5 Stelle presenta una proposta di legge sull'accessione dei crediti agli enti pubblici economici e alle società partecipate. Incidenti e manovre azzardate a Pesaro, la nuova rotatoria che interseca strada adriatica e via Milano finisce nel merino delle critiche. Il fanese Norris Borgogelli partecipa al concorso ungherese Ferenc Fritzway e si aggiudica il terzo posto con il primo movimento del concerto per orchestra di Bella Bartok. Sarà lui a dirigere la Craiova Oltegna Philharmonic Orchestra in Romania. Al via Castelli d'Aria ogni domenica dal 24 settembre al 5 novembre i tinerari organistici nei luoghi più caratteristici della Valmetauro e Valcesano. Derby Fossombrone-Fano. Il ricorso chiesto dalla squadra bianco-azzurra potrebbe annullare lo 0-2 e trasformare la vittoria dei Granata in una sconfitta a tavolino. Noi adesso dovremmo essere bravissimi questi tre punti che ci verranno tolti e ce li dobbiamo andare a prendere su qualche terreno infuocato. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dai nostri titoli, sono stati portati in carcere i due giovani di 33 e 18 anni ritenuti responsabili in concorso tra loro della rapina ai danni del titolare del forno Ambrosini in via della Repubblica a Fano avvenuta la notte del 31 luglio 2023. Erano circa le 3 del mattino quando il titolare intento a lavorare all'interno del suo laboratorio era stato raggiunto dai due giovani che a volto scoperto usando violenza fisica e minacce lo avevano derubato di 540 euro. I carabinieri di Fano acquisita la denuncia avevano vagliato le immagini dell'impianto di videosorveglianza rilevando dettagli nitili dei volti, della corporatura e dell'abbigliamento indossato dai due malfattori. Grazie a questi elementi avevano riconosciuto il 18enne già noto per fatti similari mentre per il 33enne l'identificazione non è risultata così semplice essendo poi risultato residente nel nord Italia e ospite da poco tempo presso l'abitazione di un amico a Fano. Dagli approfondimenti è emerso che il più giovane era stato controllato da una pattuglia dei carabinieri poche ore dopo la rapina. Era a bordo di un'auto insieme ad un'altra persona che indossava vestiti simili a quelli utilizzati dal rapinatore. Anche il secondo soggetto a questo punto aveva un nome. Inoltre durante la perquisizione nella casa del Fanese che ospitava il 33enne sono stati sequestrati alcuni indumenti che sarebbero stati utilizzati quella notte. Sulla base degli indizi il giudice ha emesso la misura cautelare della custodia in carcere a carico dei due soggetti ritenuti responsabili. Ed ora passiamo al Superbonus e all'allarme lanciato dalla CNA che per voce del presidente Costruzioni Marche dell'Associazione di Categoria ha parlato di un possibile disastro sociale. Il servizio è di Simona Zonghetti. Superbonus è corsa per chiudere i cantieri entro il 31 dicembre. Per la fine dell'anno infatti dovranno essere completati i lavori perché dal 1 gennaio 2024 la percentuale di detrazione scenderà al 70%. Un grande problema per i condomini che hanno ancora diritto alla detrazione del 110% avendo perfezionato la pratica e presentato la CILAS entro il 25 novembre dello scorso anno. Molti di questi cantieri, ha spiegato il presidente di CNA Costruzioni Marche, Marco Rossi, sono in ritardo e non riusciranno a completare i lavori entro la scadenza prevista. Marco, a che cosa sono dovuti questi ritardi? In prima istanza si può dire che sono stati dovuti alla forte domanda quindi la difficoltà a reperire le materie prime poi successivamente la mano d'opera ora direi che il problema più grosso è lo sblocco dei crediti. Le imprese non hanno più liquidità e quindi hanno difficoltà a terminare i lavori quindi a far fronte ai pagamenti. Noi sappiamo che quando c'è questa situazione si rallentano i lavori se non addirittura si frenano finché non si riacquista liquidità. A questo si aggiungono le continue modifiche normative del super bonus una situazione complessiva che ha frenato soprattutto i privati e il settore dell'edilizia. Tanti e diversi i rischi e le preoccupazioni. Innanzitutto possiamo avere nella migliore delle ipotesi che le imprese riescono a terminare i lavori il prossimo anno e quindi l'aliquota del 110 passa al 70. E sappiamo benissimo che i condomini saranno costretti, saranno richiamati a versare la differenza. Guardando un po' il periodo in cui andiamo incontro dove abbiamo un rialzo dei tassi quindi chi ha un mutuo si troverà in forte difficoltà. un pensionato che non pensava di dover tirare fuori tutti questi soldi penso che si creeranno dei problemi enormi con rischio anche di contenzioso tra impresa e condomini. Ma c'è anche un rischio fallimento per le imprese? C'è un rischio fallimento soprattutto se poi le imprese non riescono a sbloccare i crediti qui si verifica l'ipotesi più estrema, più negativa cioè che le imprese non riusciranno a concludere i lavori e quindi tutti i benefici che fino a quel momento sono stati maturati dovranno essere rifusi all'Agenzia delle Entrate. E quindi voi immaginatevi se dovrà essere fatto questo in che condizioni si troveranno i condomini. Io penso che sia un disastro sociale. Nessuno è in grado di affrontare e ha la percezione di questo pericolo. Quali sono le vostre richieste? Allora, la nostra richiesta fondamentale è innanzitutto, diciamo, condizione necessaria ma non sufficiente è quella della proroga, ovviamente. Ma perché questa proroga possa avere effetti occorre chiaramente disincagliare i crediti evitare il fallimento delle imprese e mettere in condizioni disastrose dal punto di vista finanziario anche i condomini. Sulla cessione dei crediti da Superbonus si segue all'esempio della Basilicata. La capogruppo del Movimento 5 Stelle del Consiglio regionale Marta Ruggeri sollecita i colleghi ad approvare la sua proposta di legge. Davvero tante le preoccupazioni e i disagi legati a Superbonus. In Commissione Consigliare avete avviato la discussione? Sì, finalmente è stata avviata. Come sapete, la proposta di legge che ho fatto è stata protocollata a marzo, marzo scorso. La maggioranza ha temporeggiato parecchio fino a che non è arrivata una seconda proposta di legge a firma del gruppo PD e tutto questo ha notevolmente rallentato e ulteriormente rallentato i lavori in Commissione. Però dovremmo essere arrivati al punto fatidico perché sono stati nominati i relatori, sono stati unificati i due testi, motivo per cui durante la prossima Commissione dovremo scoprire, anche se io purtroppo ho già subodorato che c'è qualche problema, la posizione del nostro centrodestra. Parlo del centrodestra marchigiano perché, come sappiamo, a livello nazionale Meloni ha, con un provvedimento, affermato la cessione dei crediti per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, quindi intendo comuni, province, regioni, però le ha lasciate disponibili per le società partecipate e per gli enti strumentali, per esempio, della regione. Per questo motivo che io mi sono attivata subito per fare questa proposta di legge, perché è possibile. La Basilicata quasi contemporaneamente ha presentato la proposta, in Basilicata già è legge e già è stata vagliata anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha detto che è in linea con le leggi nazionali. Quindi il Molise ha legiferato, in Piemonte e in Lazio, e sto parlando anche di amministrazioni di centrodestra, stanno affrontando la questione, e quindi io mi auguro che su questo tema molto delicato che ha richieduto importanti sugli imprenditori e su tante famiglie anche della nostra regione, il Presidente Acquaroli scelga più il bene dei propri concittadini piuttosto che quelli del partito. Invece il Direttore Generale di Confcommercio Marche Nord, Amerigo Varotti, è intervenuto sul costo del denaro. Nei giorni scorsi, ha detto, abbiamo assistito esterrefatti al decimo aumento consecutivo dei tassi da parte della Banca Centrale Europea. Il conseguente aumento del costo del denaro ci porterà dritti alla recessione economica, altro che blocco dell'inflazione. Una follia, ha proseguito Varotti, che la politica farà pagare alle famiglie e alle imprese. È stato calcolato che è una rata mensile di un mutuo a tasso variabile iniziale di 456 euro, con questo ulteriore aumento passerà a 759 euro mensili, con un aumento del 66%. E così il Paese si ferma, le famiglie si impoveriscono, le imprese chiudono e il Paese entra in recessione. La domanda che sorge spontanea, ha concluso il Direttore, è chi fermerà la Lagarde, chi si opporrà a questo incomprensibile rigore della BCE? E adesso diamo spazio alle vostre segnalazioni con le foto scattate da alcuni reporter di strada in via del Perugino, il parchetto vicino, e di via Fabriano, nel comune di Fano. Sono anni, ha scritto il reporter, che segnaliamo il problema, eppure nessuno si ne occupa. Ci sono lampioni rotti e talmente sporchi, aggiunto che la luce nelle lampade non filtra nemmeno. Inoltre, in via da Fabriano, rimangono attaccati con del nastro isolante, con il rischio di cadere in testa a qualcuno. Ed ora andiamo a Pesole, parliamo della rotatoria definitiva, che interseca strada adriatica con via Milano. Un luogo spesso teatro di incidenti e recentemente interessato da critiche. A rispondere oggi è l'assessore Enzo Belloni. La rotatoria che interseca strada adriatica e via Milano a Pesaro è da qualche tempo nel mirino della critica. Secondo alcuni ha dimensioni troppo ridotte. Assessore Belloni, qual è il suo punto di vista? La rotatoria di via Milano è la conseguenza della rotatoria che abbiamo realizzato in via Mario del Monaco, poi la rotatoria di Largo Tremartire e conseguentemente quella di via Milano. Abbiamo eliminato negli anni tre semafori, abbiamo evitato code e situazioni di caos del traffico. La rotatoria ha dimensioni previste dal codice della strada. È chiaro che le dimensioni sono particolari della strada e la rotatoria è di conseguenza. Il problema non è la rotatoria di per sé come si vede da molti video che abbiamo fatto e da foto che abbiamo ma di quelli che per guadagnare 20 centesimi ci passano sopra, la tagliano e addirittura qualcuno anticipa l'attraversamento prima della rotatoria specialmente quelli con gli scooter. È chiaro che non è che possiamo non siamo una scuola guida dobbiamo educare i cittadini la rotatoria funziona se chi guida la macchina la affronta come prevede il codice della strada e come prevede la scuola guida insomma chi ha preso la patente sa come deve portare la macchina se qualcuno vuole tagliare vuole anticipare è come passare con il semaforo rosso rischia la pelle sua ma soprattutto quella degli altri perché finché uno rischia la sua è un problema solo suo quando invece commette un'infrazione e mette a repentaglio la vita degli altri allora inizia a diventare un problema complessivamente funziona quando si prendono iniziative sul tema della viabilità c'è chi è più contento chi è meno contento 10 a 0 non finisce mai quindi ci prendiamo i complimenti ma ci prendiamo anche le critiche che continuiamo ad andare avanti con la consapevolezza che abbiamo fatto quello che secondo noi andava fatto e l'intervista è stata curata da Marco Lonigro andiamo avanti con il nostro telegiornale il fanese Norris Borgogelli si è giudicato il terzo premio all'International Ferenc Fritchway un concorso internazionale per direttori d'orchestra oggi è pronto per dirigere una delle orchestre più famose del mondo lo ha incontrato per noi Stefania Bonomi la città di Fano festeggia con orgoglio uno degli artisti più eclettici del panorama della musica classica internazionale violista arpista direttore attore Norris Borgogelli è appena rientrato dall'Ungheria terzo classificato all'International Ferenc Fritchai Competition concorso per direttori d'orchestra che si è svolto dal 3 al 10 settembre a Segede in Ungheria dopo essere stato selezionato in video su 530 candidati provenienti da tutto il mondo Borgogelli ha passato il primo turno con la Sinfonia al Barbiere di Siviglia di Giacomo Rossini per poi accedere alla seconda prova con Prelude alla Premi di Dunfeun di Debussy superata a sua volta con il primo movimento dalla Sinfonia numero 5 di Tchaikovsky cosa l'ha spinto a partecipare al concorso ungherese internazionale Ferenc Fritchai sicuramente il piacere di tornare in Ungheria dove ho fatto già un concorso nel 2015 e poi perché c'era anche un premio molto interessante almeno il primo premio ci ispira sempre insomma 6 concerti 2 in Inghilterra 1 in Germania 2 in Ungheria e 1 in Romania non ho vinto il primo premio ma un bel terzo posto e soprattutto bisogna segnalare che il primo premio non è stato assegnato quindi il secondo e il terzo premio insomma acquisiscono un valore diverso oltre a che ha un'esperienza musicale sarà stata anche un'esperienza emotiva molto importante certo in questi concorsi innanzitutto sono meravigliosi perché sono internazionali sono stati visionati dei video prima per essere selezionati da 61 paesi di tutto il mondo più di 500 500 persone 530 credo candidati e sono stati scelti 100 invitati a Segedi in Ungheria è stata umanamente un'esperienza molto bella ed edificante come sempre molto impegnativa perché per me è stata lunga anche l'attesa perché prima hanno dovuto udire tutti i 100 concorrenti io sono stato nella mattina del primo turno quindi ho dovuto attendere 5 giorni ma mi sono tornati comodi perché mi sono ho tenuto sotto mano DBC Tchaikovsky sperando di arrivare in fondo mi è servito perché ho preparato molto bene il primo movimento domenica scorsa la finale con i quattro candidati Messico Italia a Belgiolanda dove il maestro Borgogelli ha diretto il primo movimento dal concerto per orchestra di Bela Bortoc prova con la quale si è aggiudicato come terzo classificato la direzione della Craiova Voltegna Vons libro con grande gioia mi hanno selezionato per la finale e ho portato proprio un brano del più grande compositore ungherese del novecento il primo movimento dal concerto per orchestra e in un primo momento avevo anche sbagliato perché preso dall'entusiasmo di partecipare a questo concorso nel programma avevo letto primo e quinto movimento dal concerto per orchestra di Bortoc e io ho scelso il quinto il giorno della mia prima prova, il 3 settembre, dopo aver fatto la mia esecuzione con l'orchestra, parlando con un altro concorrente, vengo a sapere che non c'era in programma il quinto movimento, ma il quarto, e ho detto come? Ma siete sicuri? Mi sono riguardato il programma ed era così. Quindi cosa ho fatto? Come un pazzo mi sono messo a studiare, il pezzo lo conoscevo, ma come direttore d'orchestra è il primo movimento, quindi ho diversi giorni, speriamo di passare i prossimi turni, e mi sono chiuso un clausura nell'appartamento e ho studiato tutto il primo movimento, musica non facile, del concerto per l'orchestra di Bellavolto. La prima cosa che farò con l'orchestra sinfonica Rossini, 3 giorni, andiamo in Svizzera, in una rassegna molto importante per le settimane musicali di Ascona, a Locarno porteremo un nostro cavallo di battaglia, il mio cavallo di battaglia, Pirene e Lupo di Sergei Fracovie. Con questa vittoria Norris Borgogeli è riuscito a tradurre la musica in gesti, parole e suoni, dimostrando la sua personalissima cifra stilistica, lieve come un sorriso e densa come la ricerca della verità. Il comune di Fano regala il manto sintetico dell'impianto sportivo Vittorio Del Curto, da poco sostituito con un altro tappeto omologato. Abbiamo a disposizione circa 1600 metri quadri di materiale, ha precisato l'assessore Brunori. Non ci possiamo rivolgere ai singoli cittadini, bensì ad organismi di volontariato, istituzioni scolastiche, strutture sanitarie, forze dell'ordine e associazioni no profit. Qualora vi siano più istanze, verrà preso in considerazione l'ordine cronologico di arrivo delle domande, prediligendo la richiesta che consente l'assegnazione di un maggior numero di rotoli di manto in erba sintetica. Il bando verrà pubblicato lunedì 25 settembre sull'Albo Pretorio, dove è possibile ottenere tutte le informazioni. Nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, domani, giovedì 21 settembre, alle ore 10.30 si svolgerà il TechFem Mobility Day, un talk dedicato ad innovazione e sostenibilità in programma nella chiesa di Santa Maria del Gonfalone. L'incontro sarà moderato da Stefano Gandelli di Geopop, una realtà di riferimento nazionale nella divulgazione scientifica che vanta oltre 1,5 milioni di follower sui social network. Nel pomeriggio, invece, alle ore 16, in piazza 20 settembre, è previsto il TechFem Mobility Village, il villaggio dedicato alla mobilità, dove è in programma l'accordo per il protocollo d'intesa del progetto di mobilità di distretto tra Comune, Ami, Adria Bus, Forbici e una serie di aziende della zona industriale di Bellocchi, di cui TechFem è capofila. Al via da questo weekend gli itinerari organistici nella Val Metauro e Val Cesano, Castelli d'Aria. Il festival, arrivato alla sua 17esima edizione, si svolgerà ogni domenica dal 24 settembre al 5 di novembre. Prenderà il via domenica 24 settembre la 17esima edizione di Castelli d'Aria, l'evento organistico itinerante che tocca i luoghi più caratteristici della Val Metauro e Val Cesano nella provincia di Pesare Urbino. Si tratta di sette concerti d'organo che hanno lo scopo di far conoscere e riscoprire i numerosi organi storici diffusi nel territorio provinciale. L'evento è promosso dal Laboratorio Armonico di Fano. I concerti appunto sono sette con i luoghi che spesso vengono coinvolti anche se non sempre manteniamo la stessa articolazione. In questo caso abbiamo Montemaggiore al Metauro, San Lorenzo in Campo, Barchi, Mondolfo, Montevecchio di Pergola, San Costanzo e il concerto del 29 ottobre che sarà a Fano. Il concerto a Fano sarà presso la Pinacoteca San Domenico che grazie alla fondazione Cassa di Risparmio di Fano possiede uno strumento storico recentemente acquisito. Importante dire che i concerti sono collocati tutti la domenica a partire dal 24 settembre in orario pomeridiano, quindi avremo il concerto sempre la domenica alle 18.15. Caratteristica però della rassegna è un'occasione per approfondire la conoscenza dei luoghi, quindi accanto ai sette concerti che sono affidati a prestigiosi musicisti italiani e stranieri ci sarà un momento, un incontro dove il nostro pubblico curioso potrà apprezzare le informazioni che verranno date su alcune tradizioni del borgo, del castello ma anche per esempio dei fenomeni che coinvolgono l'interesse delle persone che operano anche dal punto di vista turistico nelle nostre località del territorio. Gli incontri hanno luogo sempre alle ore 17, quindi il pomeriggio sarà pieno per chi vorrà seguirci. Il programma completo e le date di ogni singolo incontro e concerto sono disponibili sul sito laboratorioarmonico.it. L'idea che stiamo sviluppando in questi anni ovviamente è quella di creare una rete territoriale importante che possa valorizzare tutta la nostra vallata del metà e del cesano. Da qualche anno quindi che è partito il progetto Vagli a Scoprire che oggi finanzi anche una serie di eventi e attività come questo castelli d'aria che non solo porterà dei momenti di concerti d'organo all'interno dei nostri borghi ma porterà anche delle visite guidate pomeridiane all'interno della città per andare a scoprire ad esempio alcuni produttori vinicoli come succederà a Montevecchio di Pergola oppure a Barchi, la riscoperta delle associazioni che lavorano l'uncinetto e tante altre attività. Insomma l'importanza di fare rete tra i 15 comuni della vallata e di questi eventi è per far conoscere meglio tutto il nostro territorio. Domenica scorsa invece si è conclusa la terza edizione del concorso internazionale di clarinetto città di Fano. La giuria però quest'anno non ha giudicato nessun primo premio bensì solo il secondo che è andato ad un giovane nativo di Braga in Portogallo. Lo ha intervistato per noi Maria Elena Delbianco. Ritorna clarinetto clarinet. Una a tre giorni è davvero intensa. Che cosa è accaduto? Noi abbiamo fatto prima una selezione via streaming perché i ragazzi erano tanti e poi ne abbiamo messi nove alle semifinali. Li abbiamo fatti venire in presenza della giuria ovviamente. Una giuria di grande eccezione perché abbiamo il primo clarinetto dell'orchestra della Scala, primo clarinetto della RAI e primo clarinetto dell'orchestra sinfonica di Parigi. Quindi è una giuria importante assieme al nostro caro Giuliano Giuliani che è un fanese ed è stato per 40 anni il primo oboe e corno inglese nel teatro comunale di Bologna. Questa è la giuria. abbiamo scaltato questi nuovi ragazzi e ne abbiamo portati qua stasera quattro. È anche molto difficile poi dargli un giudizio, escludere, non è facile. Quest'anno però la giuria è stata molto molto selettiva. si valutava il suono, la qualità del suono, l'intonazione, la tecnica, l'interpretazione, almeno queste e poi tante altre piccole cose come lo staccato, come tante... Chi conosce il clarinetto sa che cosa voglio dire. Non c'è un primo vincitore e non c'è un terzo vincitore, quindi solo il secondo abbiamo premiato. È un ragazzo di Braga in Portogallo che si chiama Joel Cardoso. Questo è il vincitore di quest'anno, ma secondo posto. Il vincitore, il secondo posto con tutte le spiegazioni del caso che sono state date. Condividi con noi la tua emozione di questa vittoria. Sono molto contento, è stato un gran piacere. In verità è la mia seconda volta qua, anche la seconda volta e il secondo premio. È sempre un piacere tornare, mi è piaciuta molto l'esperienza. Ricordiamo i nostri amici a casa, da dove vieni? Io sono portoghese, dalla città di Braga, da un piccolo paese che si chiama Vieira Domino, però adesso abito in Svizzera, a Lucerna. Da quanto tempo suoni? Io sono il clarinetto, probabilmente da 16 anni. Qual è il tuo sogno nel cassetto e cosa vuoi fare da grande? Per me suonare in una grande orchestra sarebbe molto bello. Mi piacerebbe anche suonare un po' per tutto il mondo, fare musica da camera, suonare da solista, tutto un po'. A me piace fare la musica. A chi dedichiamo questa vittoria? Questa vittoria la dedico alla mia mamma e al mio insegnante. Una doccia fredda ha spento i festeggiamenti per la vittoria del Fano nel derby disputato domenica scorsa contro il Fossombrone. Infatti la squadra bianco-azzurra ha fatto ricorso per la presenza irregolare in campo di Rigioni che doveva scontare un turno di squalifica per una somma di ammunizioni. Sentiamo. È terminato 0-2 a favore del Fano il derby contro il Fossombrone disputato domenica scorsa. Una Fano che non si fa vedere nel primo tempo ma che si rimette davvero in gioco nella ripresa. Una gioia che però si spegne pochi minuti dopo la conclusione della partita quando il Fossombrone si dichiara pronto a fare ricorso perché il Fano ha schierato Bartolomeo Rigioni che nella scorsa stagione era stato squalificato durante i play-off disputati dagli uomini di fucili. Dunque il match con ogni probabilità non verrà omologato in attesa della decisione del giudice sportivo che potrebbe ribaltare lo 0-2 maturato sul campo nel 3-0 finale in favore del Fossombrone. Siamo passati dall'esaltazione di una vittoria eccezionale, di una grande partita giocata dai miei ragazzi a Fossombrone, alla depressione della notizia appresa appena terminata la gara. Questo ci purtroppo preclude una vittoria meritatissima sul campo con una sconfitta a tavolino. Voi eravate al corrente di questa cosa? Assolutissimamente no. Purtroppo quando si inizia una stagione è chiaro che si va a ricercare per prima cosa i residui delle squalifiche dei calciatori nuovi e anche dei calciatori che avevamo in organico. Questa ricerca è stata fatta sia per la Coppa Italia che per il campionato. Purtroppo nella vita chi lavora sbaglia, c'è stato un errore, non voglio rocefiggere nessuno. È chiaro che sono stati due o tre giorni veramente tremendi. La vittoria di domenica nel derby a Fossombrone era un qualcosa di importantissimo. Questa squadra non ha mai perso da agosto, non subisce gol, è imbattuta. E chiaramente io guardo il lavoro sul campo, io di questo gruppo sono fiero e orgoglioso. Stiamo lavorando per cercare di riprenderci psicologicamente da una vittoria ottenuta sul campo e una sconfitta probabilmente a tavolina. Dovrò lavorare sulla testa dei ragazzi, però è chiaro che se doveva succedere una cosa del genere è meglio che è successa alle prime giornate dove noi adesso dovremmo essere bravissimi. Questi tre punti che ci verranno tolti ce li dobbiamo andare a prendere su qualche terreno infuocato. Ed è tutto per questa sera, vi lascio alle previsioni del tempo e a seguire ad uno speciale dedicato al progetto Obiettivo Sicurezza della Confartigianato Ancona-Pesaro-Urbino. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento sul canale 19 di Fano TV. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento.